Dall'8 dicembre a Pescara ci sarà una mostra di presepi abruzzesi e napoletani, organizzazione dell'associazione Iside. Voi vi occupate di solito di violenza sulle donne, delle problematiche che riguardano la violenza sulle donne, però quest'anno parliamo anche di presepi. Allora, noi di solito nasciamo per combattere la violenza sulle donne e i bambini, perché i bambini spesso sono vittime, perché vedono quello che vedono, insomma, anche loro sono delle vittime, e quest'anno per regalare appunto un sorriso a tutti i bambini della città ma anche a tutti i cittadini, insieme a degli amici napoletani stiamo realizzando questa mostra presepiale con opere sia pescaresi e abruzzesi ma soprattutto con opere napoletane. All'interno dei presepi vedremo anche un banchetto dove si venderà del pane e della pasta fatta proprio dalle donne vittime di violenza perché il nostro progetto, che era il pastificio solidale di Iside, finalmente sta prendendo piede. E in più ci sarà un albero dove ogni bambino può attaccare il suo pensierino sul Natale e verrà premiato a fine mostra.